Il Rosmarinus officinalis è una pianta mediterranea meravigliosa, un arbusto cespuglioso sempre verde e dal quale si ricava un olio essenziale delle proprietà incredibili. Conosciuto in particolare per l'effetto stimolante di depurazione, è utile anche come cardiotonico per la pressione bassa e un anticellulite, ma ora ne parliamo meglio. Mi raccomando rimani fino alla fine per scoprire anche tre seghetti storici e le sue origini mitologiche. Vediamo i principali benefici. Se inalato ha un effetto stimolante sul sistema nervoso, dona energia, favorisce la concentrazione e migliora la memoria. Se usato al mattino svolge un'azione tonificante generale, stimola le nostre componenti emozionali positive, infonde il coraggio e rinforza la volontà. Incide marcatamente sul cuore, per questa ragione è indicato in caso di astenia, pressione bassa, basta odorarlo un po' e la pressione sale. È depurativo, bastano due o tre gocce di olio essenziale in mezzo cucchiaino di miele per stimolare il drenaggio bigliare e la digestione, smuovere le scorie e rimuovere i ristagni dell'organismo, sostenendo l'attività disintossicante del fegato. È anticellulite, viene impiegato come ingrediente nei prodotti cosmetici, nei fanghi contro la cellulite o la diposità localizzata, in virtù dell'azione lipolitica, cioè quella di sciogliere i grassi. Inoltre stimola la circolazione periferica ed è drenante sul sistema linfatico. Non male. È anche antinfiammatorio. Se massaggiato localmente e diluito in un olio di mandorle dolci, attenua i dolori articolari e muscolari e astringente. Sulla pelle ha un effetto tonico, antisettico e purificante, quindi è utile nella cura dell'acne, delle macchie scure cutanee. Per queste proprietà viene anche impiegato come ingrediente nelle lozioni degli sciampi per capelli grassi, non è il mio caso, ma anche per la forfara o per contrastare la caduta in quanto stimola la circolazione e favorisce l'ossigenazione dei tessuti e la ricrescita dei capelli. Bene, meraviglioso. Vediamo un po' tre segreti storici. È una pianta usata fin dall'antichità nel Mediterraneo. In particolare, uno, gli egizi conoscevano gli effetti battericidi antisettici di questa essenza e la impiegavano nelle tombe. Due, anche in Grecia i suoi remetti venivano bruciati nei templi al posto del prezioso incenso arabo. Tre, gli antichi romani erano soliti coltivare il rosmarino sulle tombe come simbolo di immortalità. Le sue origini sono mitologiche. Ovidio, nella Metamorfosi, racconta che la pianta fu il risultato della trasformazione della principessa Leocote ad opera del dio sole, Apollo, che si innamorò di questa splendida fanciulla, figlia del re di Persia, e la sedusse. Il padre punì la debolezza della figlia con la morte e i raggi del sole sulla sua tomba trasformarono il suo corpo nella pianta aromatica. Questo racconto ci aiuta a noi terapeuti di spagiria a ricordarci che è di segnatura solare. Condividi questo video con chi può trarne beneficio e ricorda di seguire il canale. Al tuo benessere!